Scusate, devo fare questa cosa perché dopo una certa età, non starà mai fermo, mi servono cinque persone che tengano ognuna un foglio. Oh grande, questo è proprio il solving. Allora, grazie, fantastico. Tu sei? Renata, un applauso a Renata. Allora questo è un talk, come diceva Alessandra, sul fai da te. Ecco, grazie. No, basta, basta, l'importante è quella e poi il resto vado al caso, come sempre. Oggi vorrei parlarvi di gestione della conoscenza perché con Alessandra stavamo ragionando se fare un corso, un'iniziativa per digital update che parlasse proprio di questo, quindi gestione della conoscenza, come fare a gestire quello che noi... come? No, no, grazie, come fare a gestire la mole di informazioni che ci arrivano addosso ogni giorno. Alessandra ci ha anche scritto un libro qualche anno fa e secondo me siamo un po' tutti i lavoratori della conoscenza, qualsiasi lavoro facciamo, perché le informazioni ci aiutano a muoverci nel mondo. E non so se anche per voi è così, la mia giornata inizia in questo modo. Arrivo in ufficio, apro il pc a casa, guardo un po' quello che devo fare, prima di iniziare mi... magari leggo una newsletter, guardo un sito, c'è un link che ho lasciato aperto, che dovevo... una pagina legge, un articolo interessante e poi inizio a lavorare, guardo l'ora e mezzogiorno. Controllo che non si è rotto il pc? No, è davvero mezzogiorno. Perché? Perché mi sono iscritto a una newsletter che poteva essere interessante, ho visitato un sito, me lo sono salvato da leggere dopo, ho comprato un libro che si poggia su una pila di libri che ho comprato, che forse non leggerò mai, mi sono iscritto a corsi che non ho fatto, durante la pandemia adesso divento superman. Inizio yoga, poi faccio HTML5, eccetera. Tutti lì ancora sono. o la palestra, è il grande classico, ma questo è un altro discorso che non riguarda informazione. Oppure il vostro ambiente di lavoro è fatto di Chrome con 87 tab aperti, tutti piccolini così, che c'è Chrome che ti guarda e fa... scegli una carta. Cazzo una fattura. No, navigare all'interno di questa situazione, poi ho fatto anche una mia newsletter per peggiorare la situazione, però pensando alla vita di chi doveva poi riceverle, ho deciso di fare questa newsletter dove tu ti iscrivi e io non ti manderò mai nessuna email. Quindi, si chiama, siamo a posto così. Esiste davvero, non ridete, ho dieci iscritti, dal 2015. E lo 0% di open rate, ovviamente. La smetto, posso andare avanti due ore. Questa cosa, pensando a chi si trova dall'altra parte, quindi ogni giorno è sommesso di novità, informazioni, sempre con questa paura, sensazione anzi di non riuscire mai davvero a fare tutto, a leggere tutto, a capire tutto, gli altri ne sanno sempre di più. E come risolvere questa cosa? Mi sono chiesto. La soluzione istintivamente è, devo diventare migliore, più attento, più intelligente, devo organizzarmi, devo avere più tempo, devo imparare di più, devo fare più corsi, devo migliorare come persona, essere un professionista migliore e anche un essere umano migliore, alla fine, perché se mi so organizzare, eccetera, eccetera. In realtà, dopo anni di tentativi di diventare questa cosa, mi sono arreso e ho capito che in realtà non dobbiamo lavorare tanto o solo su noi stessi, ma anche nel costruirci un sistema esterno a noi, questo è importante, un sistema esterno a noi, che ci sopravvive, insomma, che è lì, è fuori. Così possiamo continuare a essere brutte persone produttive, ok? Che potrebbe essere anche un titolo per un libro, produttività per brutte persone. E volevo raccontarvi brevemente quello che sta diventando il mio sistema, che sto usando ormai da un po', che è fatto di tre elementi, e magari poi in un futuro approfondiremo, però volevo darvi giusto un assaggio. Stamattina mi sono alzato mentre ero seduto, ho letto un articolo, lui ride perché sa dove ho seduto, ho letto un articolo e parlava di scoiattoli. Gli scoiattoli, non so se lo sapete, questa è una cosa che cambierà la vostra percezione dell'animale scoiattolo, gli scoiattoli, siete pronti? Perdono il 75% delle ghiande che raccolgono e nascondono. Cioè le nascondono perché non possono mangiarle subito, ci vuole tempo, hanno paura, e poi le perdono. Il 75%. Ma quello che mi sconvolge è l'implicazione. È così che nascono le querce. Ok? Quindi, vedo questo articolo, dico, bello, me lo gioco al prossimo Filetscamp. Come lo inserisco all'interno del sistema che va ad alimentare poi quello che è il mio processo creativo? Perché poi a un certo punto dovrò fare uno speech, dovrò aprire il folder con tutte le cose che mi sono salvato, vedrò che ho un milione di link, inizio a leggere il primo, parla del Commodore 64 perché l'ho salvato in 86, e questa cosa rende inutile il mio archivio. Quindi cosa faccio? Poi vado su Google, ricomincio tutto da capo, è peggiora la situazione perché trovo altra roba che metto nel calderone, eccetera, eccetera. Per interrompere questa catena, invece, la prima cosa da fare è lavorare sulla cattura, cioè scegliere cosa prendere e mettere in questo calderone. La cattura, prima della cattura uno deve fare una riflessione sulla sua dieta informativa, perché l'informazione che processiamo per noi è come il cibo, uguale. Se io leggo solo notizie brutte, tristi, sarò deperito, sto male, sono triste a mia volta, eccetera. Se io non ho le informazioni che mi servono per muovermi nel mondo, faccio fatica, eccetera, eccetera. Quindi è come una dieta vera e propria, devo decidere qual è la mia dieta. E qui il primo principio che vorrei lasciarvi sulla cattura di quello che interessa è che è necessario lasciare andare. Cioè non è la fine del mondo se non leggiamo qualcosa, non è la fine del mondo se non leggiamo tutto, non è la fine del mondo se non leggiamo completamente, perché tanto come per il cibo, i nutrienti che stanno in un certo cibo, magari li trovo in un altro cibo. Le informazioni che stanno in un certo articolo magari mi arriveranno da un'altra parte. Quindi non è necessario leggere tutto, sempre e comunque. Quando andate al ristorante, che dopo primo, secondo, terzo, gli amici dicono facciamo un giro di amari, voi non rispondete, no, devo ancora mangiare tutto il resto. Cioè voi, ok, va bene, ho preso, sono sazi. Quindi il primo punto è cattura, scegliere, senza aver paura di perdere qualcosa. Il secondo punto, che è quello che mi è mancato di più, che non ho fatto per anni, e che poi è la causa di tutto il casino che viene prima, è che non basta segnarsi qualcosa da leggere, ma bisogna sempre prendere una nota a riguardo. Perché? Prendendo una nota a riguardo, e poi gli strumenti ci sono, ce ne sono mille, ma va bene anche la carta, prendendo una nota a riguardo io porto fuori da me, nel sistema di cui parlavamo prima, le cose che per me sono rilevanti rispetto a tutto quello che sto vedendo. Se va bene, in un articolo ci sono tre cose che vi possono essere utili, ma proprio se va grassa. Altrimenti state facendo un'altra cosa, state studiando su un libro, dove tutto è importante. Quindi, devo segnarmi, devo prendere delle note, devono essere delle note che descrivono il punto dal mio punto di vista, e che quindi saranno poi più facilmente digeribili in futuro, quando vado a ricercare, perché troverò le mie parole, il mio lessico, i miei concetti, eccetera, eccetera. Terzo elemento che voglio lasciarvi oggi è, quando prendo la nota, la devo sempre prendere, salvo un articolo, leggo e prendo la nota, la devo sempre prendere per un obiettivo, per un interesse, altrimenti quella roba lì rimarrà lì e non verrà mai usata. Quindi, perché mi è rilevante quello che sto leggendo? Per fare questo, il passo precedente è crearsi una sorta di classificazione, tassonomia, direbbe l'architetto dell'informazione, con l'elenco dei miei progetti, che sono le cose su cui sto lavorando oggi. Sembra una cavolata, ma cambia la vita. Se io vi chiedo quali sono tutti i progetti su cui avete lavorato in ultimo mese, molto probabilmente uno ve lo dimenticate. Quindi, una bella lista e leghiamo queste note ai progetti su cui sto lavorando, subito. Se invece questa nota non è immediatamente utilizzabile, perché non sto lavorando sugli scoiattoli, ma eccetera, eccetera, vado ad alimentare un'altra lista che è quella degli interessi, delle aree, l'interesso di, non so, intelligenza artificiale, scrittura creativa, tutta una serie di cose che magari non sono pertinenti col vostro lavoro, cioè non vi sto chiedendo di compartimentalizzare tutto quanto, ma di mettere su una mappa, in modo che poi la vostra destinazione, quando avete bisogno di scrivere quell'articolo, preparare quella riunione, trovare delle idee alla svelta per fare uno speech, perché vi siete ridotti all'ultimo momento per scriverlo, andate lì, nella vostra area, cavo, di tutte le note, del vostro Evernote, del vostro strumento, e lì troverete le risposte, perché inizierete a unire puntini, avendo fatto note, avendo classificato per progetti e avendo inserito gli interessi. Ok, quindi, in sintesi, volevo darvi un po' un'infarinatura di quello che sarà questo corso che stiamo preparando, farvi riflettere su quello che è una cosa che a me ha creato parecchi problemi nel mio lavoro e nel modo che avevo di affrontarlo, ma anche invitandovi a iscrivervi alla mia newsletter. Se volete, ogni mattina non ricevere una mia mail. Grazie.